Eccoci pronti per iniziare insieme una nuova puntata di Antenna 2 Sport Buonasera a voi telespettatori che ogni settimana ci seguite con attenzione E' sempre così, come ogni martedì sono pronta a raccontarvi O meglio saranno loro che si racconteranno tanto sport Tante associazioni del nostro territorio E questa sera iniziamo da parre perché occuperanno una parte importante della nostra trasmissione E si perché lì batte il cuore pulsante del basket Ho il piacere di avere qui con noi i rappresentanti del Casicasa Basket Parre Buonasera e ben ritrovati Buonasera a tutti Iniziamo subito nel presentare ormai il cuore di questo Casicasa Lui che sta portando avanti gli allenamenti ma non solo Insomma sta seguendo davvero tutto quello che sono anche le iniziative del Casicasa Basket Parre Sto parlando di Tino Piccinali, buonasera Tino Buonasera a te Insieme a te ci hai portato due atlete, due atlete dell'Under 13 Pro Che andremo poi a conoscere Sto parlando di Risarizzo al centro e a fianco Eva Cominelli Buonasera anche a voi ragazze Tino andiamo un po' a fare una piccola storia del basket a parre Soprattutto di questa importante società Lo anticipavo prima, ho fatto proprio due conti Prima di preparare insomma anche questa puntata Il Casicasa Basket Parre è pronto a celebrare i 50 anni di storia Quindi insomma quando si parla di basket si parla di questo paesino in Alta Valle Seriana Sì lo racconto sempre perché è una storia un po' particolare Nel 1972 visto che c'era una palestra, la prima che c'era direi nell'Alta Valle Seriana Gaetano Salemi arriva e fa il segretario comunale a Gromo Era un allenatore di basket e quindi con Silvia Carissoni Da inizio a questa, così un po' come tentativo da inizio a questa avventura Si presenta in oratorio e dice chi vuol venire a giocare a basket Venga domani in palestra e domani in palestra si ritrova con 100 bambini e bambine Che non avevano mai sentito nemmeno parlare di pallacanestro E quindi nasce da Carissoni, Silvia, Gaetano Salemi Il nome Casigasa, la società Casigasa che c'è ancora oggi E che essendo fondata appunto nel 72, nel 2022 farà 50 anni di età Io, purtroppo così si collega la mia età Sono lì dal 72 come giocatore, poi come allenatore Ma in realtà qui rappresento perché non vogliono venire quelli che lavorano anche più di me Quindi il presidente Cominelli Gianni Gaetano Salemi che adesso non fa più attività effettiva ma è sempre al nostro fianco Ma supporta sempre la squadra, lo salutiamo Soprattutto poi Graziella Cominelli che porta in giro queste trattalette in erba È una grande spalla ma chiaramente anche Marina che ti aiuta anche negli allenamenti più piccoli Ma potremmo davvero elencare tantissimi nomi che lavorano dietro le quinte di questa squadra E che dobbiamo dire sta raccogliendo un bacino di atleti importante Si pensava una piccola crisi post-covid Insomma tanti sport e tante società hanno avuto un piccolo stop Invece a pari si torna e si continua a giocare, forse più di prima Sì fortunatamente nonostante il lockdown Poi la federazione ci ha accompagnato abbastanza con l'uscita di protocolli Che noi abbiamo adottato, li abbiamo consegnati in comune Abbiamo sempre cercato di giocare Appena ci hanno consentito di entrare in palestra con tutte le regole che c'erano e ci sono ancora Le abbiamo applicate ma non abbiamo perso un giorno Perché in realtà questi ragazzini e i bambini hanno perso due anni Noi diciamo due anni, poi non sono due anni davvero ma il covid effettivamente li ha fermati per parecchio tempo Ma noi volevamo tornare in palestra e direi che il post-covid ci ritrova con un ritorno di fiamma Che poi vedremo anche nei campionati che andremo ad elencare e che si fanno a parre C'è stato un aumento anche degli iscritti nel mini basket Ci serve ancora qualcuno, e qui approfitto per fare un po' di promozione Ci serve ancora qualcuno di prima, seconda e terza elementare Per costituire il gruppo che poi farà i campionati nei prossimi anni Eh sì, vogliamo dire anche quando vi allenate e soprattutto dove vi possono trovare Per chi volesse anche iniziare insomma a questa attività Che poi ci porterà a conoscere anche le piccole e grandi atlete che ci hai portato questa sera Certo, noi ci alleniamo per i piccoli, quindi dalla prima elementare fino alla terza Ci alleniamo il giovedì alle 14.30 fino alle 16 in palestra a Parre Poi ci sono la quarta e la quinta elementare che quest'anno faranno il campionato Aquilotti Open E che hanno giusto cominciato sabato scorso E poi ci sono loro, sempre il giovedì Loro naturalmente cominciano ad essere un po' grandini E quindi poi si allenano anche il martedì e mi sembra adesso pure il lunedì sera Quindi sono già tre allenamenti Però chi volesse venire anche dai paesi circostanti Benvenuti e tutti Il giovedì alle 14.30 e poi dopo si incomincia Insomma c'è possibilità di fare anche due o tre prove Senza problemi e senza questioni di quote e non quote Assolutamente, insomma l'importante è muoversi come lo diciamo sempre Come diciamo ogni martedì sera proprio qui nei nostri studi Perché insomma tutte le attività e tutte le nostre associazioni sportive Sono pronte ad abbracciare i nostri ragazzi Soprattutto in questo momento delicato post-Covid L'importante è ricominciare e fare qualcosa Ma a proposito di attività andiamo a conoscere le nostre atlete Le nostre cestiste E al centro troviamo Elisa Rizzo Buonasera Elisa Raccontaci un po' di te Quanti anni hai, dove sei, come hai conosciuto il Calci Casa Basket Par E come hai iniziato insomma Raccontaci un po' di te Mi chiamo Elisa, ho 12 anni Vengo da Ponte Nossa e ho iniziato il Calci Casa Basket Perché mia sorella Chiara giocava lì e anche mio fratello E vedendo alcune partite mi è venuta un po' la passione di giocare anche Cioè anche io volevo giocare E ho iniziato da piccola E per un periodo ho smesso Poi ho ricominciato questi due anni E adesso faccio anche il campionato Under 13 con il Calci Casa Ti piace? Sì, sì Ci racconti un po' di come vanno le partite E soprattutto che ruolo hai C'è un po' di tensione per le partite Adesso comincia il campionato Immagino che il gioco si fa impegnativo Sì, io non ho proprio un ruolo nella partita Però sono più forte nella difesa E prima delle partite sono agitatissima sempre Tino vi supporta però, dai Sì, sì Hanno in panchina la mamma Graziella Hanno in panchina Graziella Però c'è una bella agitazione C'è una bella agitazione Come sono andate le prime partite? Possiamo dirlo? Eh, bene perché comunque ce l'abbiamo messa tutta Però non abbiamo vinto Non avete ancora vinto Ma ci sarà sicuramente tempo per portare a casa i primi punti di questo campionato E vado a fianco a te a conoscere Eva Eva Cominelli Tu invece di dove sei? Quanti anni hai? Come hai iniziato a giocare a basket? Quanti anni avevi? Ti ricordi magari le tue prime volte? Mi chiamo Eva Ho 12 anni E vengo da Parre La passione per il basket è iniziata dalla seconda elementare Quando all'elementare abbiamo iniziato a fare un po' di sport A provare qualche sport E abbiamo provato basket e mi è venuta la passione per giocare E allora dalla seconda elementare ho iniziato a giocare E cosa ti riesce meglio? Qual è un ruolo che ti piace di più magari in partita? L'attacco preferisco Tu sei un attaccante Insomma abbiamo un difensore e un attaccante Cioè preferisco l'attacco che la difesa Canestri ci siamo La mira è giusta Diciamo sì Col terzo tempo anche Tutto a posto Come sono queste ragazze Tino? Sono Ma no Molta passione Vedi che sui ruoli in realtà loro ti dicono la preferenza Ed è giusto Preferiscono un attacco alla difesa Ma tu sai che a basket Si attacca tutti Si difende tutti Però è chiaro che a qualcuno piace di più difendere Qualcuno piace di più attaccare E quindi in questo senso loro esprimono una preferenza È interessante ricollegarsi a quello che ha detto Eva Che ha preso la passione in occasione di una prova Esatto Qui mi ricollego perché il comune di Parre con le scuole ha sempre fatto una gran bella cosa Alla fine dell'anno si fa un sabato mattina in cui tutte le associazioni gestiscono una postazione Si mettono in vetrina Ognuno prova lo sport Si prova lo sport Ed è promozionale Non è stato fatto chiaramente anche questo nell'ultimo periodo di Covid Ma è una cosa molto bella È importante il fatto che Eva abbia conosciuto insomma il Casicasa Basket Parre proprio durante queste prove Il fatto che insomma insieme al comune ci si possa anche mettere in mostra e far provare la propria disciplina È davvero molto importante Eva torno da te perché insomma tu sei di Parre ma in palestra a piedi Quindi insomma sei comodissima non hai bisogno di nessuno E quindi per gli allenamenti ti muovi in autonomia Ci sono tre allenamenti a settimana però Com'è conciliare scuola allenamenti comincia a diventare difficile No No Graziella è brava non vi fa soffrire No è brava È brava è brava e quindi insomma vi impegnate ma al punto giusto E quello che ci piace io vi devo augurare in bocca al lupo Vi tengo state qui con noi perché dopo la pubblicità andiamo a conoscere la parte maschile del Casicasa Basket Parre Perché insomma loro fanno il campionato Under 13 Open se non dico male Proprio perché giocano insieme maschi e femmine È ancora consentito a quest'età e quindi insomma andiamo a conoscere anche quella che è la squadra maschile di questo Casicasa Basket Parre Rimanete con noi perché poi al termine della nostra chiacchierata insieme faremo una foto di gruppo Che posteremo nelle nostre pagine Facebook e Instagram Proprio perché lì ci sono tutte le foto dei nostri ospiti qui ad Antena 2 Sport Rimanete con noi perché dopo la pubblicità andiamo a conoscere la parte maschile del Casicasa Basket Parre Ve l'avevo anticipato prima della pubblicità c'è stato un piccolo cambio nei nostri studi ma non è cambiato assolutamente lo sport Perché qui parliamo ancora di Casicasa Basket Parre e abbiamo sostituito le nostre ragazze con gli splendici cestisti Perché parliamo anche di basket maschile e vado a presentare oltre al nostro Tino Piccinalli che è sempre qui con noi in studio I nostri atleti sto parlando di Cristian Cominelli e Marco Berini Buonasera ragazzi benvenuti qui nel salotto di Antena 2 Sport Tino prima di andare a conoscere direttamente i nostri atleti dobbiamo parlare del progetto importante Che raggruppa tutte le squadre di basket soprattutto nella nostra provincia Sto parlando del progetto Ororosa è un progetto che possiamo anche dire ha salvato tante squadre Sì è un progetto nato dall'unione di tutte le principali società bergamasche e quindi Parre, Albino, Bergamo Excelsior, Trescore C'era anche Almenno, c'è ancora diciamo anche Almen Costa Volpino ha partecipato per alcune parti È un progetto che si occupa di gestire le giovanili praticamente dall'under 14 fino all'under 19 E poi prima e dopo le società gestiscono i loro giocatrici Quindi mini basket in società, poi Ororosa e poi senior Quindi il percorso poi finisce nel Casigasa in serie C o nell'Albino in serie B o in Trescore Quindi è un progetto che effettivamente ci ha consentito di ovviare al problema del numero delle atlete Che non è più così alto come una volta, anche se sono ancora tante Interessante che adesso il progetto Ororosa si collega anche a quel mega progetto un po' più grosso Playing for Bergamo Che vedrà la sua presentazione domenica prossima al Palasport Lì è una cosa un po' più grossa però Ororosa diciamo ha buon diritto come società che gestisce il basket femminile C'è C'è e quindi insomma sicuramente è un fada collante un po' a tutto quello che è il settore giovanile Soprattutto dà la possibilità a tutti gli atleti di giocare rispettando un po' quello che è anche il proprio valore Perché è giusto dare spazio a tutti ma chiaramente poi ci sono i campioni, ci sono gli atleti E c'è chi anche ha la passione per giocare magari non può neanche impegnarsi negli allenamenti così tanto Però trova spazio per continuare a coltivare la propria passione Prima abbiamo detto di un incremento dei tesserati e soprattutto della passione Che sta riemergente un po' nel cuore di tanti ragazzi parresi e di tutta l'Alta Valle Seriana Che sono andati un po' così ad aumentare anche il livello e il numero degli iscritti al Casigasa Basket Parre A tal proposito dobbiamo dire che la palestra di Parre ospita ben sette campionati Quindi insomma sono anche un po' invogliati da tutte queste partite che poi si ritrovano a giocare durante la settimana Perché io vedo l'Under 15, l'Under 19, la Serie C del Casigasa del quale mi parlavi Ma come il CSI, l'Under 13, gli Aquilotti, tutti giocano lì e quindi magari insomma Come è successo Elisa Rizzo, ho visto il fratello, ho visto la sorella, giocare Sono anche un po' invogliati da questa vetrina, da questa bella manifestazione che continua ad esserci nella palestra di Parre Sì, è importante che i giovani possano vedere delle senior o comunque giocatrici un po' più grandi Perché si impara di più vedendo una partita che facendo 10 allenamenti Quindi la palestra è una bella casualità, la palestra di Parre invia risorgimento In questo momento abbiamo un risorgimento dei campionati E a volte è veramente uno spettacolo Domenica scorsa c'è stato Casigasa a Cremona di Serie C Vinta dopo un tempo supplementare di due punti Sembrava di essere tornati ai bei tempi Con l'urlo Casigasa che risuonava, la palestra piena Bello! Sabato scorso giocavano le piccoline Quindi il campionato Aquilotti E la palestra era ancora piena, piena di mamme, di papà Insomma è un altro andare E qui vediamo alcune foto che abbiamo preso dal vostro sito Dove ci sono le varie Questa per esempio si è una squadra oro rosa Esatto E lì a destra c'è la sorella di Elisa Di Elisa E quindi insomma pian pianino abbiamo tutte le squadre che si susseguono poi ogni settimana nella palestra di Parre Quindi avete anche il piacere di vederle giocare Abbiamo delle date fisse, magari un weekend piuttosto un luogo dove possiamo consultare anche l'elenco delle partite? Beh cerchiamo di mettere in paesi manifesti Stiamo anche cercando di mettere i calendari sul sito oro rosa in modo che si conoscano Però di norma il mercoledì sera gioca l'Under 19 Tra il sabato e la domenica giocano al pomeriggio i più piccoli Il giovedì sera gioca la maschile Casigasa CSI Domenica pomeriggio mattina magari giocano i giovanili Pomeriggio gioca la Serie C E quindi insomma l'importante è aver voglia di vedere insomma una partita di basket e confrontarsi soprattutto insomma andare a gustare e a fare il tifo per questi ragazzi E prima di parlare di nuovo continuo soprattutto per dare l'appuntamento ancora per tutti i piccolini che vogliono aggregarsi andiamo a conoscere i nostri cestisti perché al centro abbiamo Cristian Cominelli Buonasera Cristian Insomma dici un po' di te insomma quanti anni hai di dove sei e soprattutto come è conosciuto il Casigasa Basket quando è iniziato insomma come è andata anche il tuo ingresso in questa società Mi chiamo Cristian Cominelli ho 12 anni e quando ho capito che non riuscivo a usare la palla con i piedi ho provato a usarla con le mani giocando a basket e mi è piaciuto da lì mi sono appassionato Quindi insomma niente calcio ma ti è piaciuto di più il basket insomma Sì Quando hai iniziato? A tua età? Iniziato in prima elementare Quindi subitissimo Sì La palla era quasi più grande di te mi sa perché insomma quando si è così piccolini Sì A te qual è il ruolo che riesce meglio? Io so che non ci sono ruoli e me l'ha spiegato prima Tino presentando quelle che sono le ragazze ma c'è qualcosa, qualche ruolo che preferisci fare? L'attacco L'attacco anche tu vai meglio, sei un cecchino a canestro? Sì Sì, dai, i tiri da fuori ti riescono bene? Sì Sei tu che li tiri anche con le liberi in partita? Sì Invece le partite come vanno? Voi le fate già insieme alle ragazze vero? Sì Siete da supporto? Sì Sì, più o meno? Più o meno Più o meno E gli allenamenti come vanno? Bene, dai Bene, anche voi vi allenate insieme a loro? Sì Insieme alle ragazze Quindi tre volte a settimana conciliare studio, scuola, com'è? È un po' difficile ma mi sto abituando Riesci a organizzarti insomma? Sì Anche per te sei di parre quindi insomma puoi andare a piedi, non hai bisogno dell'aiuto di mamma e papà e questo è importante Tino, è importante soprattutto per i ragazzi di parre, è un supporto non indifferente. Andiamo invece da Marco Guerini, buonasera Marco, raccontaci invece di te, quanti anni hai, di dove sei e soprattutto insomma come hai conosciuto e come sei entrata a far parte di questa famiglia. Ho 12 anni, sono di parre e ho iniziato basket seguendo il mio migliore amico e dopo da lì mi sono appassionato. Chi è il tuo migliore amico? Giorgio Giorgio, anche lui fa basket con te? Sì Sì, quindi insomma ti ha un po' coinvolto in questa realtà e adesso ti piace un sacco? Sì E poi il fatto che siete tanti maschietti tutti insieme insomma è importante. Anche per te col calcio non andava bene? Cioè all'inizio ho provato a fare calcio però poi io l'ho lasciato. Hai lasciato insomma per il basket, anche per te come sono gli allenamenti, sono duri? No però con lo studio è un po' difficile riuscire alla mano a lavorare. E perché insomma voi siete in seconda media quindi insomma comincia a diventare impegnativo lo studio, c'è da portarsi avanti, c'è da organizzare poi tutta l'attività. Invece il tuo ruolo qual è? Mai non ho un ruolo, cioè se mi trovo in difesa riesco a difendere, se mi trovo in attacco riesco ad attaccare. Quindi ti piace un po' tutto? Sì Ok Tino insomma sono già pronti questi ragazzi e sicuramente sul campo riescono a tirar fuori anche tutta la voglia che hanno di giocare. Mi piace il fatto che uno venga coinvolto l'amico per quanto riguarda Cristian, invece aveva lasciato il calcio, preferiva giocare con le mani e soprattutto è iniziato piccolissimo. Insomma da quando aveva sei anni, quindi è già tanti anni che cominciano a masticare anche questo sport e questa attività. Bene, noi cominciamo il primo elementare, quindi chi inizia proprio a principio arriva subito. Insomma è stato Cristian, è uno di quelli che hanno iniziato. Che tipo di attività si fanno con i bambini così piccoli che immagino facciano fatica a gestire la palla? Perché insomma... Ma si gioca con la palla, si fanno esercizi anche individuali, poi magari c'è sempre un gioco di gruppo senza palla. Però devo dire che bisogna subito arrivare a proporre una partitella, altrimenti si annoiano. Quindi sono loro che vogliono subito confrontarsi in gara e partitella. Cominciare a fare le piccole partite. Eh sì, e se quanto prima non riesci a fargli fare un campionato, ci rompono. Eh beh, questo è... E la miglior pubblicità in effetti, io glielo dico sempre, portate qualche amico, portate qualche amica perché normalmente a quell'età succede così. In compagnia ci si diverte, si sta insieme, per loro chiaramente stare insieme, continuare a giocare insieme è sicuramente davvero importante. Abbiamo detto che non ci sono solo partite e non organizzate solo chiaramente i campionati, non gestite solamente quelli che sono i campionati nella palestra di Parra, ma ci sono un sacco di eventi, ce n'è uno in particolare al quale siete davvero legati. Si tiene ogni anno di solito in autunno, è avvenuto qualche settimana fa un ricordo importante per Lucia, una grande cestista del Cassicasa Basket Bar. Sì, la nostra capitana storica, purtroppo volata via troppo presto, era anche allenatrice della prima squadra dopo aver smesso di giocare. Dopo la pausa Covid siamo riusciti a fare la seconda edizione del Memorial con una partita e poi tutti insieme all'oratorio a ricordarla, a fare un po' di premiazioni. Nel evento il cui ricavato poi va all'associazione Paolo Belli, che era anche lui un baschettaro, insomma anche lui scomparso troppo presto, uniamo queste due cose. Ci rinfranca un po', ci riscalda un po' e dà una memoria. È la cosa bella perché come succede spesso nelle associazioni sul nostro territorio, il fatto che ci sia diventato proprio una grande famiglia, il fatto di ricordare in questo caso Lucia, ma insomma poi ritrovarsi anche in questi eventi è davvero una cosa molto importante e soprattutto lo si può fare grazie ai nostri paesi e al fatto che tutti si è vicini e si possa davvero condividere questa gioia in questi eventi. Quindi insomma, bello, complimenti a voi e Tino approfitterei degli ultimi secondi di trasmissione proprio per ricordare l'appuntamento per i più piccoli, soprattutto per chi si vuole unire al Casicasa Basket Parre. Certo appuntamento, ogni giovedì alle due e mezza per i più piccoli, poi dopo li dividiamo a seconda dell'età o delle capacità negli altri gruppi. La palestra di Parre vi aspetta tutti i giovedì alle 14.30 soprattutto Tino e tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto insieme questa sera. Grazie a Tino Vicinale, grazie ai nostri cestisti e voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità abbiamo un altro sport da presentarvi. Terza ed ultima parte di Antenna 2 Sport e passiamo dal basket per arrivare al Lago di Zeo perché dobbiamo parlare di canottaggio, ma soprattutto ho il piacere di avere qui con noi la canottieri Sebino Di Lover. Buonasera, buonasera e ben ritrovati. Buonasera, è davvero un piacere riavervi qui in studio ad Antenna 2 Sport e vado subito a presentarvi perché qui a fianco a me c'è Nicola Iannone, uno degli allenatori al centro, Marilena Boschi che è un consigliere e sempre un consigliere Roberto Manenti. Di nuovo buonasera ma io inizio subito da Nicola perché proprio lo scorso sabato è stata presentata a Lover la vostra squadra, una squadra che ogni anno è in crescita soprattutto per il numero di iscritti e soprattutto quest'anno c'è tanta passione per questo sport anche individuale e quindi insomma non ci sono contagi sia da soli e questo ormai sta anche piacendo e soprattutto piace tanto a quelli che sono gli amatori che spesso ti ritrovi ad allenare oltre che alla squadra agonistica Nicola. Il mio lavoro extra squadra agonistica prevede a tempo pieno tutta la parte amatoriale, sia le scuole all'inizio, alla fine dell'anno e poi tutte queste persone che si avvicinano al canottaggio per la prima volta. Sono soprattutto donne, sono tantissime donne. Perché? C'è una motivazione secondo te? Non lo so, allora comunque riescono meglio le donne, degli uomini a imparare questo sport, forse perché hanno meno forza o forse perché, non lo so, devono dimostrare qualcosa di meno. Invece di andare in palestra preferiamo l'aria aperta e ci piace così. Sono brave e addirittura adesso un gruppo di queste signore si è organizzata per fare gare amatoriali di medio-basso livello per cui si sono tesserate e hanno organizzato sia gare sul mare in coastal rowing che, tipo ad esempio, c'è stata una manifestazione a Parigi sulla Senna qualche mese scorso e loro sono partite, vacanza di 3-4 giorni, per poter remare sulla Senna con tutto il resto del mondo perché per niente sono venuti da tutto il mondo. Che bello, che bello. E si allenano da te sul lago di Loro? Si fanno il corso all'inizio, sono sette lezioni, dopodiché da lì partono e continuano, o noleggiano la barca per conto loro per cui vengono quando possono. Io sono disponibile tutto il giorno, dalla mattina alle 8 fino alle 5 perché dopo ormai fa buio oppure si mettono d'accordo tra di loro, abbiamo un gruppo Whatsapp dove si organizzano, io siamo in doppio, siamo in quattro adesso c'è questa cosa dell'otto che li ha presi tantissimo per cui questa imbarcazione che è un sacco che non la usavamo la stanno usando loro. È una barca che comunque può ospitare fino a 8 persone come dicevi e che quindi piace tanto agli amatori piace tanto alle persone che non sono degli atleti ma insomma piace condividere anche il post lavoro, il sabato mattina io li ho visti proprio sabato mattina mentre ero da voi all'overe così remare con tranquillità anche ammirando quelle che sono le bellezze del nostro dago di Sè e di tutta la bellissima zona. 113 anni di squadra agonistica, una squadra agonistica tra le più importanti e tra le più antiche proprio d'Italia e soprattutto l'unica in Bergamasca che pratica questo tipo di attività. Questo davvero credo che sia un motivo di grande orgoglio portare avanti una società con questa storia e soprattutto che come ogni anno sforna grandissimi campioni. Sì, sono molto contento di questo gruppo anche perché negli ultimi due anni abbiamo un po' per sfortuna delle altre sport che hanno dovuto chiudere, noi invece siamo rimasti sempre aperti. Per cui c'è stato, non so, un po', i ragazzi non sapendo cosa fare sono confluiti in questi sport che sono rimasti aperti e il canottaggio, noi abbiamo avuto un espload di ragazzini, adesso abbiamo 50 atleti sulla carta e speriamo che tutti si impegnino per iniziare a fare le gare e a vincere qualche medaglia per noi. Eh sì, perché insomma sabato sono stati presentati e quelle che vedete proprio in onda in questo momento sono le immagini bellissime con il drone di quella che è Piazza 13 Martiri dove avete anche esposto quelle che sono le vostre imbarcazioni, quelle che sono anche i kayak, poi magari ne parleremo perché qui c'è una bellissima collaborazione con quello che è il liceo sportivo dei Ciocelleri di Lovere ma vogliamo andare a parlare anche dell'attività agonistica. A tal proposito vado da Roberto Manenti perché lui poi si occupa di quelli che sono gli atleti e della gestione proprio degli atleti. 50 sono i tesserati, 50 sono gli atleti che portano avanti i colori della Canottiri Sebino. Tantissimi e soprattutto un grande orgoglio. Un grande orgoglio soprattutto quest'anno che dopo il lockdown siamo ripartiti, c'è questo nuovo ciclo che sta partendo frutto dell'impegno degli anni scorsi per rilanciare un po' la Canottiri Sebino. Come diceva giustamente Nicola poco fa, abbiamo 26 nuovi ragazzi che tra l'anno scorso e quest'anno hanno iniziato questa esperienza del canottaggio e ne siamo molto orgogliosi ovviamente. La cosa bella è che questi ragazzi approcciano il canottaggio per il fatto di poter stare all'aria aperta, vivere il lago, una cosa stupenda, una peculiarità di Lovere proprio questo lago. e sfruttando, iniziando a fare questa attività sul lago poi si scopre anche, si fa gruppo, c'è l'amicizia, c'è la volontà di stare insieme e assorbono dai più grandi, dai più esperti, dai più anziani quelli che sono i valori del canottaggio, dove c'è l'impegno, c'è questo allenamento fisico che porta però anche all'allenamento mentale e una crescita tutti insieme, che è la cosa secondo me più bella del nostro sport. Eh beh sì, immagino. Prima diceva Nicola che forse le donne fanno meno fatica, adesso chiaramente stiamo parlando di attività amatoriale contro quella agonistica, però il fatto di allenare la mente, cioè non sempre la potenza nel canottaggio è la scelta vincente, perché proprio immagino che il movimento sia la base di tutto. Sì, il canottaggio è uno sport molto particolare, perché non è uno sport solo di resistenza, non è uno sport solo di velocità, ma mette insieme tutte queste cose, resistenza, velocità, si usano tutte le parti del corpo, dalle gambe, alle braccia, alla schiena, è uno sport molto completo, ma è proprio uno sport mentale, dove veramente la concentrazione, concentrarsi sul movimento e concentrarsi sugli avversari durante le regate, porta secondo me a uno degli sport più completi del panorama sportivo accessibile ai ragazzi, diciamo. Assolutamente. Invece per le gare, che tipo di competizione riuscite a partecipare? Soprattutto c'è qualche risultato che dovete raccontarci, anche orgogliosamente dirci. Sì, diciamo che quest'anno è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per noi, abbiamo avuto tanti giovani che hanno ottenuto dei risultati importanti, le medaglie sono arrivate abbondanti, fortunatamente quest'anno, per soddisfazioni nostre, ma soprattutto dei nostri ragazzi. Abbiamo avuto anche la soddisfazione di vedere grandi risultati, in particolare Gabriele Bettineschi che ha vinto i campionati italiani, societari, con un quattro di coppia, Marilena Bosch è la mamma, perciò particolarmente orgogliosa, immagino, come tutti noi d'altronde. E in più abbiamo avuto anche una ragazza, categoria ragazze, tra l'altro della Val Seriana, che è stata selezionata per il gruppo della Regione Lombardia. Considerate che la Regione Lombardia nel canottaggio è la regione più importante, abbiamo molti laghi, abbiamo oltre 40 società di canottaggio, a Bergamo ce n'è una sola e orgogliosamente ne portiamo avanti la... Il nome, soprattutto, tenete alto l'onore del canottaggio bergamasco. Esatto, e perciò essere presenti in questa selezione così competitiva per noi è veramente un grande orgoglio. E questa ragazza, Elisa Marzella, è proprio la nostra rappresentante migliore. E come diceva giustamente Nicola, non solo tra gli amatori, ma anche tra i ragazzi, le ragazze sono quelle che più facilmente si approcciano al nostro sport. Non so, sarebbe da indagare questo. Perché trovano un bel gruppo, si trovano... Non so se ci sono istruttori carini, piuttosto che questo non... No, ma poi fanno gruppo e poi queste state erano sempre lì. Cioè, è finito l'allenamento, passano lì di tempo a fare la merenda, tornano lì prima dell'allenamento, dopo il pomeriggio... Cioè, vivono lì. Prima con il basket parlavamo di grande famiglia, come succede per le nostre associazioni in genere, nei nostri comuni, il fatto di vivere l'associazione come vivere una grande famiglia, come vivere proprio la realtà sportiva. È bello fermarsi a far merenda, fare il terzo tempo nel nostro calcio, piuttosto che però, insomma, fermarsi e godersi anche quello che è il post-allenamento, il post-gara e condividere anche gioie, dolori, successi e soprattutto acciacchi, consigli. Questo è il bello del nostro sport. Il bello del nostro sport però è anche tutto quello che... e soprattutto la beneficenza che dietro a queste squadre si può creare. A tal proposito vado da Marilena Boschi, che è un'altra dei consiglieri della Canottieri Sebino, che ci deve parlare di un progetto importante, un regalo di compleanno per i 113 anni anche della Canottieri Sebino, perché bisogna raccogliere 22.000 euro per far sì che sul lago di Iseo e al porto di Lovere arrivi la vichinga. Di cosa parliamo? Parliamo di un progetto ambizioso, di un regalo di compleanno veramente importante. Noi abbiamo già questa imbarcazione, in pratica la utilizziamo da più di dieci anni, anzi possiamo andare anche ulteriormente indietro. È un'imbarcazione che ha delle caratteristiche particolari proprio per la sua sicurezza, per la sua grossa stazza e permette di portare a bordo 14 vogatori più timoniere. La cosa interessante è che ci rivolgiamo al mondo delle persone con abilità diverse, in quanto possono salire a bordo da protagonisti, cioè non semplicemente da trasportati, passeggeri, eccetera, ma proprio come attori di questa esperienza. Vi assicuro che è bellissimo, a me è capitato di essere in più di un'occasione ad assistere all'uscita quando questi ragazzi rientravano e l'entusiasmo che traspare proprio dal loro viso, dal loro cuore, ti fa capire che stai facendo veramente qualche cosa di bello, qualche cosa sì, di interessante. Eh sì, perché questa barca può portare le persone diversamente abili, ma poi possiamo davvero spattiare anche su ragazzi, su bambini, su persone che magari non si sarebbero mai messe su una barca. Quindi insomma è bello che tutti possano salire su questo tipo di imbarcazione e il fatto che sia così larga e soprattutto ci possano salire così tante persone magari può dare anche un po' più di tranquillità ai passeggeri stessi che però sono parte integrante di quello che è il viaggio di questa barca. Sì, sì, assolutamente. Difatti lo fanno in assoluta sicurezza. Chiaramente ci sono i giubbotti, tutti i presidi obbligatori, però come giustamente diceva non viene utilizzata. Questo diciamo è il motivo principale per cui noi aspiriamo a poterne presto avere una nuova in modo che la prossima estate potremo riportare tutti questi ragazzi sul lago. In realtà l'imbarcazione viene utilizzata anche per altri scopi. Se pensiamo ai bambini magari piccoli non ancora in grado di condurre un'imbarcazione da soli oppure ai gresti estivi che si avvicinano a venire così e anche ogni tanto ci sono anche delle uscite serali di gruppi comitivi di adulti proprio di pura convivialità. Però ecco, lo scopo principale per cui noi vorremmo riuscire a sostituire la vichinga è proprio la possibilità di rendere accessibili alle persone con abilità diverse il nostro bellissimo lago. La nostra che avevamo abbiamo tuttora ma purtroppo non è più in grado di navigare in sicurezza e non è più nemmeno riparabile. La stoppo solo un secondo perché grazie al nostro Felix vediamo proprio in sovrappressione e i dati per fare il bonifico è proprio l'erogazione liberale per l'acquisto di questa vichinga qui vedete Liban e è proprio Liban della società Canotieri Sebino che sta appunto raccogliendo, cercando di raccogliere questi 22.000 euro per l'acquisto di questa nuova imbarcazione che può davvero servire a tutti può servire ai ragazzi diversamente abili che possono davvero mettersi in gioco e quindi salire a bordo di questa imbarcazione ma davvero anche per tutti per gli adulti, per gli anziani, per i centri ricreativi estivi che possono provare e iniziare a mettersi in gioco e quindi a trovare questo tipo di sport insomma questo è un po' il bello di questa barca vichinga perché è proprio prodotta nei paesi scandivani, in Finlandia se non vado errato. in Finlandia dove originariamente il nome diciamo era church boat veniva utilizzata per passare a raccogliere le persone che abitavano in qualche isoletta diciamo sperduta per essere portate alle funzioni domenicali per cui è nata con questo scopo essenzialmente e da qui deriva il costo ingente che l'imbarcazione ha interamente prodotta in legno e questo purtroppo è anche la causa del suo deperimento rimanendo in acqua per lunghi mesi e il trasporto incide anche esso, da lì deriva insomma il costo finale di 22 mila euro importante dato dalla somma dell'imbarcazione più il trasporto che è abbastanza impegnativo. Ebbè immagino, immagino. Proprio sabato durante la presentazione di quelle che sono stati, che saranno poi gli asleti della prossima stagione della Canotire e Sibino c'è stata la presentazione anche delle imbarcazioni non dobbiamo dimenticare anche un progetto importante che c'è con il liceo dei Ciocelleri di Lovere perché il liceo ha acquistato dei caia che li ha messi proprio a disposizione della società. Nicola, anche questo credo che sia una collaborazione importante con una scuola del territorio e soprattutto con la vostra associazione sportiva. Questo è stato veramente un regalone dalla scuola dei Ciocelleri perché avevamo il parco kayak ridotto veramente male perché erano 30 anni forse che non avevamo un kayak nuovo ai canottieri e sono capitati proprio nel momento giusto. Noi avevamo già cominciato a cambiare, avevamo acquistato sei kayak l'anno prima e gli abbiamo proposto questa cosa perché loro avevano a disposizione questa cifra da spendere e abbiamo pensato a fare questa collaborazione e loro sono stati felicissimi proprio perché erano già qualche anno che stavano facendo questi corsi scuola, canottieri. Perché al mattino poi vengono da voi per fare questa creatività. Sì, per cui tutto il Decio al liceo sportivo poi è venuto anche il classico, sono venuti anche il linguistico per cui mi è toccato anche fare le lezioni totalmente in inglese con questi ragazzi. Ci si allena anche così. Sì, perché nei primi giorni sei in panico, non ti ricordi più, ti mancano i vocaboli poi però dopo una settimana praticamente pensi in inglese succederà penso a tutti quando cominciano a parlare una lingua e grazie del Cicelleri abbiamo adesso 18 posti in kayak con kayak stabili, belli, veloci sicuri e soprattutto insomma un po' da più per cui riusciamo proprio a fare questi corsi e siamo contenti. E questo è davvero molto importante è sempre sabato e vado da Roberto velocemente sono state presentate anche quello che è tutto il parco barche che avete a disposizione peraltro è arrivata un'ultima barca anche questa si tratta di una donazione una barca molto veloce. Sì, è stata l'occasione proprio sabato scorso di presentare queste nuove cinque barche in realtà erano cinque barche di cui questa di cui stai parlando era l'ammiraglia perché è una barca veramente importante il top di gamma che è quella blu che vediamo in questo momento esatto, il singolo completamente in fibre di carbonio ultima generazione con delle soluzioni tecniche veramente innovative e questo è stato un dono di amici in ricordo di Carlo Babaglioni che ha frequentato da vicino la Cannottieri Sebino l'ha fatta crescere negli anni perciò è stato un grande orgoglio vedere dei privati amici che hanno investito è una barca molto costosa tra l'altro e l'hanno donata alla Cannottieri insieme a questa barca che è la più importante ci sono state altre tre barche singole per i ragazzi per gli esordienti donate da Carpenteria Salvoldelli da un'assicurazione di Milano e la terza tra l'avis di Louvre inoltre c'era un altro un canoino una barca singola un po' più stabile proprio per i principianti o per gli amatori che si approcciano al canottaggio per la prima volta che è stata donata invece da un privato insomma c'è Louvre e le sue associazioni ma anche i privati sono davvero molto vicini alla vostra realtà la Cannottieri Sebino e dobbiamo chiudere in bellezza perché insomma adesso penso che abbiamo ingolosito a sufficienza i nostri tre spettatori perché insomma a forza di parlare di barca mi è venuta voglia di venire a vogare a vogare è corretto a vogare prima o poi ho promesso a Nicola che ci andremo guarda che io me lo ricordo adesso stegnamolo però per tutti i nostri telespettatori e per chi volesse magari provare da amatore da ragazzo insomma a qualsiasi età cosa deve fare come può fare per venire da voi a provare questo tipo di disciplina sul sito della Cannottieri Sebino c'è sia la mail che i miei contatti o Whatsapp o comunque il cellulare mi potete chiamare quando volete per cui io rispondo quasi in tempo reale e mi dite a cosa siete interessati se kayak o barche e canottaggio ci si mette d'accordo per giorno e ora per provare per iniziare il corso anche una singola lezione per poi capire se interessa andare avanti e fare il corso completo per cui sono disponibile tutto l'anno e in questo periodo invernale come ho detto prima dalle 8 alle 5 dalle 8 di mattina alle 5 di sera sono disponibili per accogliermi i canottieri e spiegarvi la tecnica del canottaggio e del kayak non abbiate paura del freddo perché tanto non ci si bagna insomma no non ci si bagna non ci si bagna grazie a Nicola Iannone grazie a Marilena Boschi e a Roberto Manenti grazie davvero per aver rappresentato qui questa sera la canottieri Sebino Lovere io ringrazio voi per averci seguito e soprattutto anche il nostro Riccardo e il nostro Felix in regia e vi ricordo che potete rivedere questa intervista e questa puntata di Antena 2 Sport nel nostro canale YouTube di Antena 2 TV e potete rivedere le foto di questa serata con tutti i nostri ospiti sempre sui nostri canali social Facebook e Instagram grazie ancora per averci seguito e buonanotte e buonanotte